Buongiorno a tutti amici di Le Fonti TV, eccoci tornati live per seguire la nuova riunione della Banca Centrale Europea con il nostro BCE Board e allora come ogni mese seguiremo tutti i passaggi per capire quale sarà la decisione di politica monetaria di oggi dell'Istituto di Francoforte anche se nelle attese c'è un rialzo dei tassi di 50 punti base, in realtà già Christine Lagarde a dicembre aveva parlato e aveva accennato al fatto che la Banca Centrale Europea si sarebbe mossa in questa direzione, è chiaro che un po' come è avvenuto per ieri sera con la Fed e Jerome Powell sarà più importante al di là di capire come i mercati comunque reagiranno a questo ulteriore rialzo dei tassi che però dovrebbe essere già scontato insomma se non ci fossero sorprese chiaramente, dicevo sarà più importante capire i prossimi passaggi soprattutto alla luce di un dato sull'inflazione europea che dà qualche segnale di ottimismo, siamo scesi all'8% in realtà ancora molto alta, la percentuale di inflazione è ben lontana soprattutto dal target di riferimento del 2% ma comunque un'inflazione che è scesa rispetto ai mesi precedenti, quindi occorrerà capire come la Banca Centrale Europea si pone nei confronti di questo miglioramento, io lo metto tra virgolette perché è sempre relativo, lo abbiamo sentito anche ieri sera da Jerome Powell, in America è ancora più bassa l'inflazione ma Powell ha insistito molto, è stato molto perentorio sul fatto che la strada da percorrere sia ancora lunga e che non occorra assolutamente allentare la presa, quindi non bisogna così abbassare la guardia, quindi cosa farà Christine Lagarde? Intanto i mercati oggi, facciamo una prima panoramica di quello che sta succedendo in Europa, sono positivi, quindi stanno aspettando con ottimismo la Banca Centrale Europea, sicuramente perché si è parlato molto di questo rialzo di 50 punti base, diversamente dovrebbe andare se ci fossero sorprese. Vediamo con i nostri grafici, grazie Alessandra in regia che mi seguirà, cosa sta accadendo, il Fuzzi Miba rialzo dello 0,88%, il CAC di Parigi dello 0,20%, l'Ibex di Madrid guadagna 1,58%, il Dax di Francoforte rialzo dell'1,19%, il Fuzzi 100 dell'1,62%. Eccoci qui, peraltro anche Wall Street ieri i mercati hanno reagito positivamente alle parole di Jerome Powell. Saluto Enrico Jay con me per aprire la trasmissione, il primo degli ospiti che a questo punto commenterà un po' le attese e poi aspetterà con me il comunicato che viene pubblicato tra neanche dieci minuti. Enrico, buongiorno. Buongiorno Manuela, grazie dell'invito, un saluto a te agli ascoltatori e alla redazione. Allora, intanto credi in questo rialzo di 50 punti base e poi mi aggancio al titolo che vediamo in sovrimpressione, BCE verso un nuovo rialzo dei tassi, pericolo in vista, pericolo in vista nel senso che bisognerà vedere che cosa comunicherà la GAR, cioè sarà Falco, sarà Colomba, sai che all'interno della BCE in questo momento c'è proprio un po' una divisione tra Falco e Colombe. Ecco, a te. Allora, l'aumento di 50 punti base che è l'attesa per la gran parte degli investitori mi sembra ovviamente la cosa ampiamente più probabile. Sono anch'io curioso di quello che dirà Miss Lagarde perché è una situazione estremamente complicata, sia per la lontananza ancora dal livello del 2% programmato e atteso dalla BCE, che poi è una media del 2%, e soprattutto per il fatto che per quanto l'inflazione stia scendendo, l'inflazione è quella cosiddetta di fondo, per cui quella che esclude beni alimentari ed energetici invece non sta ancora scendendo. E poi infine se ci pensiamo, la situazione che la Lagarde deve fronteggiare è molto complicata, ossia noi abbiamo 27 stati membri dell'UE e quindi lei deve tener conto dell'inflazione della Germania come quella della Lituania e della Bulgaria e quindi hai dei paesi dove magari l'inflazione è al 7, da noi può essere all'11 e quindi diventa estremamente complicato andare a cercare un obiettivo che sia una media che vada bene per tutti e di volta in volta quindi un ritocco dei tassi. Io leggo che si aspettano tutti 50 punti base, ancora 50 punti di base successivamente e poi 25, quindi per arrivare in sostanza a un 3,25. Arrivare a un 3,25 nelle due prossime riunioni vorrebbe dire quindi sperare che ad aprile l'inflazione di fondo più o meno di tutti i 27 paesi sia scesa da quello che può essere un 8-9%, noi siamo in Italia ancora a doppia cifra, ma sperare che da qui ad aprile possa scendere in Italia dal 10 al 4, io credo che sarebbe anche un pessimo segno, vorrebbe dire che nessuno sta più spendendo nulla. Ebbè certo, Enrico due cose, intanto la reazione dei mercati di oggi prima delle parole di Christine Lagarde, i mercati europei sono positivi, questo perché secondo te, perché appunto si è già parlato ampiamente di questi 50 punti base, domanda numero uno e poi la domanda numero due, rispetto a chi sostiene che in realtà la Banca Centrale Europea, certo a parte il controllo dell'inflazione con il rialzo dei tassi, insomma poco possa fare perché le aspettative di inflazione dipendono da eventi esterni, cioè che in realtà non è lei a poter controllare, insomma non è solo la Banca Centrale Europea, anche la Fed, però adesso stiamo parlando dell'Europa. Cosa pensi in merito? Sono d'accordissimo perché ovviamente le banche hanno causato giocoforza per l'Alleman Brother e poi per salvare l'euro successivamente hanno causato in senso buono, pensiamoci al bazooka di Draghi, tassi a zero e quindi tantissima massa monetaria in giro. Sì. E chiaramente poi come lì sei sceso, noi se ti ricordi dovevamo entrare in Europa quando c'era Ciampi e quindi si doveva tagliare i tassi eccetera eccetera, è stato fatto tutto estremamente in maniera veloce perché c'erano delle tempistiche e quindi non puoi poi riaspettare o aspettarti che ci sia poi una salita nuova dei tassi in maniera naturale come se non fosse successo nulla. Immaginiamo di comprimere una molla e poi nel momento in cui la rilasci l'energia cinetica fa sì che tutto sia molto veloce e quindi sarà difficile adesso sperare che la BCE come la Fed, d'altorno del loro compito è la stabilità dei prezzi. Certo. Però in questi casi tu stai cercando di archiappare una farfalla con una retina in mezzo a un tornado, non è semplice, ci vuole tempo, devi aspettare che il vento si posi un po' e questo non dipende da te. Assolutamente. Allora e sui mercati, cioè il fatto che i mercati, allora sia ieri i mercati americani dopo l'annuncio della Fed ma anche le attese insomma per la BCE sembrano non preoccupare i mercati. Peraltro leggevo su, sai che io vado a curiosare sui vostri profili, tu parlavi del nostro indice Fuzzimib e hai scritto onestamente non credevo a tanta forza del Fuzzimib. Mettiamo insomma un po' nello stesso pacchetto queste considerazioni. Sì, perché siamo vicini di nuovo ai 28 mila che a questo punto sono anche prendibili dai minimi di ottobre, dai primissimi giorni di ottobre, il doppio minimo lì mi aspettavo ovviamente chiaramente un rimbalzo perché eravamo scesi quasi senza motivo e troppo ripidamente e il rimbalzo me lo aspettavo fino a un certo livello. Evidentemente siamo usciti contestualmente con io speriamo che la borsa sale proprio in quei giorni e niente, sta continuando a portare fortuna perché siamo stati veramente, siamo stati noi il doppio minimo del Fuzzimib. Siamo stati il market mover principale. Ma senza alcun dubbio perché siamo stati proprio in quei giorni. Adesso sbattute a parte, credo che si sia di fronte non solo a dei livelli di resistenza ma si sia di fronte, anzi si abbia alle spalle una salita che è troppo, troppo ripida. Adesso è ancora alimentata, sai poi l'euforia alimenta altra euforia, no? Certo. Ed è alimentata dalle trimestrali per cui tu vedi Unicredit che rilascia una trimestrale eccezionale. Però sa benissimo che non verranno tempe rosei brevemente per cui dice attenzione io comunque vi aumento i dividendi quindi tenete le nostre azioni in tasca. Meta ieri sera rilascia una trimestrale con le dichiarazioni di Zuckerberg che parla del 2023 come l'anno dell'efficienza. Esatto, esatto. Se qualcuno mi spiega che vuol dire vedremo quanto sarà efficiente. Perché sono aumentati gli utenti anche se i numeri comunque riportati hanno un po' di ombre insomma sicuramente però la soddisfazione è vera, è arrivata. Sì, per cui faceva un più 18 mi sembra nel post borsa. Quindi c'è diciamo una salita che alimenta entusiasmo trimestrali generalmente e tradizionalmente buoni in uscita e quindi per ora si sale ancora. Però adesso si sale un po' in maniera troppo ripida e senza più avere supporti importanti. Dovremmo consolidare insomma assolutamente. Esatto, esatto. Allora adesso veramente manca pochissimo la decisione, intanto vi ricordo che potete scriverci, noi saremo in onda per la lettura del comunicato, per la conferenza stampa di Christine Lagarde. Scriveteci sul numero di WhatsApp e anche sulla nostra live chat di YouTube. Intanto Roberto dice, Emanuela dove sei stata in questi giorni che non ti ho visto? Ne approfitto per dire, grazie Roberto, che da adesso in avanti cercheremo di mischiare un po' le nostre dirette. Faremo qualche diretta al mattino, qualche diretta al pomeriggio. Io vi terrò compagnia al pomeriggio, quindi insomma seguiteci anche sui nostri social e avrete tutte le informazioni del caso. Così almeno seguiremo i mercati un po' la mattina, un po' il pomeriggio. Intanto vedete anche in sovraimpressione il nostro numero di WhatsApp. Allora, manca veramente un minuto alla decisione, però insomma... Sì, ne approfitto velocissimamente per dire che credo che proprio l'unica cosa che non guardano, che non guardino, anzi questa mattina i mercati, è l'attesa di questo dato. Eh ma infatti, infatti. Sì, quando c'è un'attesa i mercati sono fermi, invece vediamo tutti i mercati sparati al rialzo, quindi... Diciamo che non c'è l'incertezza che preoccupa i mercati e che solitamente li fa star fermi. In questo caso mi pare di capire... Ecco, visto che sarà pubblicato proprio a breve, dovesse esserci qualche sorpresa, cosa ti aspetti? Anche se vabbè stiamo giusto... No, secondo me la volatilità la avremo sulle parole della Lagarde. Ecco, esatto, esatto, esatto. 50 punti base, possiamo anche metterlo in sovraimpressione, la decisione della Banca Centrale Europea. Insomma, come stavamo dicendo con Enrico Gei, come da previsione, dicevi Enrico, prego. Sì, adesso vedremo un po' di volatilità perché io credo che invece sarà abbastanza falco Miss Lagarde durante la conferenza. Insomma, lei sa perfettamente quello che le aspetta e quello che aspetta i 27 stati membri. Per cui sarà un periodo, secondo me... Io stamattina leggevo anche da analisti di Deutsche Bank che hanno detto ok, cancelliamo la parola recessione dal 2023, ci attendiamo che la Lagarde si fermerà al 3,25 e per poi nel 2024 tornare a tagliare i tassi. Quindi, ora, la cosa mi ha sorpreso perché insomma, fermarsi a priori al 3,25 con un'inflazione che dovesse rimanere al 7 o all'8 tra due mesi, e già cominciare a parlare di tagliare i tassi, mi sembra un po' troppo avventato. Certo, certo. Allora Enrico, andiamo a leggere insieme almeno una parte del comunicato che è stato pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea, lo potete vedere tutti, peraltro disponibile anche in italiano. Eccolo qui, grazie Alessandra dalla regia, andiamo a leggerlo così inizia. Il consiglio direttivo continuerà ad aumentare i tassi di interesse in misura significativa, a un ritmo costante e a mantenerli su livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine. Mi sembra un po' l'inizio di quello della Fed di ieri, nel senso che ieri abbiamo notato subito come la Federal Reserve abbia insistito particolarmente su questo ritorno, chiaramente all'obiettivo del 2% nel medio termine. Così inizia la BCE. E questo è un inizio da falco però Enrico, perché ci dice subito che non solo le ha aumentati questo mese, ma i tassi continueranno ad aumentare. Cioè anche se si sapeva, niente di nuovo. Però dico però, insomma se vogliamo falco colomba è un inizio da falco. Nel senso, tu hai un paese che, ripeto con tutto rispetto, che non è nella Bulgaria, nella Lituania, nella Lettonia, che sono stati membri, ma è l'Italia, che ha un'inflazione all'11 e tu la vuoi portare al 2, ok, o smettiamo tutti di spendere per far scendere l'inflazione, non si va più a fare la spesa, oppure al 2 non ci torna in due mesi e mezzo. Certo. Cioè non se ne esce, per me è assurdo dire che si fermerà al 3,25 come ho letto stamattina da analisi. Sì esatto, e 3,25 chi invece parla del 7, insomma per intenderci. Allora magari il 7 vuol dire arrivarci nell'arco di 10 riunioni, e quindi per carità nessuno secondo me può dire al 7, ma dire che ci fermiamo al 3,25 facendo un altro aumento di 50 punti, e un altro ad aprile di 25 punti, vuol dire che tu ad aprile ti aspetti che l'inflazione quantomeno in Italia dall'11 sia andata al 6, perché al 3,25 ti fermi, per carità magari, però mi sembra... No, no, certo, certo. Allora poi continua, il Consiglio Direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE, prevede ulteriori incrementi alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo, intende innalzare i tassi di interesse, ecco qui, ce lo dice già cosa farà nella prossima riunione, di altri 50 punti base, anche qui era già nelle attese, nella prossima riunione di politica monetaria a marzo, ecco per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica, monetaria, mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione, quelle di cui parlavamo prima, quelle che però non sono totalmente sotto controllo della BCE, perché insomma sono causate da eventi esterni, in ogni caso anche in futuro le decisioni del Consiglio Direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati, vabbè insomma monitoraggio dei dati macroeconomici. E poi ancora, oggi il Consiglio Direttivo ha deciso le modalità di riduzione delle consistenze dei titoli detenuti dall'eurosistema nel quadro del programma di acquisto di attività, come comunicato a dicembre il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese dall'inizio di marzo alla fine di giugno 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo. Poi vediamo, insomma ecco, anche questo era già infatti ribadisce che era già stato annunciato nella riunione precedente di dicembre. Direi che questo, dopo io vado avanti a leggerlo con altri ospiti, direi che nel comunicato non mi sembra di intravedere nulla di sorprendente rispetto a quello che già sapevamo, no Enrico? No, no, assolutamente. Dobbiamo solo sondomettere a mente che il petrolio non è salito alle stelle, il natural gas che ci metteva tantissima paura da 10 sta a 2,5 e nonostante questo non c'è stato un crollo dell'inflazione. Certo. In alcuni paesi c'è stato un leggero miglioramento, ma sembrava che la disgrazia dell'inflazione derivasse dal gas. Ci ricordiamo il mercato in Olanda, il gas, il nostro stream, eccetera, eccetera. Bene, oggi il gas nell'arco di pochi mesi da 10 sta a 2,5 e noi abbiamo ancora l'inflazione superiore al 10%, quindi dire che probabilmente ad aprile sarà risolta la cosa, ce l'auguriamo tutti e incrociamo le dita, mettiamola così. Certo, certo, assolutamente. Intanto vedo che i mercati stanno viaggiando, il Fuzzimib guadagna oltre l'1%, 1,11. Beh, adesso credo Enrico che potranno consolidare i loro guadagni nella giornata di oggi. Eh beh, aspettiamo la conferenza chiaramente. Sì, magari oggi potremmo avere ancora un po' di strappi rialzista su una scia di una apertura discreta del Nasdaq. Teniamo presente che direi il Nasdaq ha fatto più 2, abbiamo detto che i titoli tecnologici sono rimasti molto indietro, ma ieri il Dow Jones, a fronte di un Nasdaq più 2,16, il Dow Jones ha fatto più 0,02, quindi attenzione che ci sono evidenti cenni di eccesso di prezzo. Allora Enrico, c'è Roberto che scrive, meno male che c'è il prezioso signor Jay, oggi è probabile un ritraccio per i listini in Europa a causa aumento dei tassi, anche se il mood è long, consiglia un buy long su Enel e Iveco da domani. Rispondiamo abbastanza velocemente così poi ti saluto e andiamo avanti sulla BCE. Sono due titoli che soprattutto Enel e come gli altri utili hanno sofferto negli ultimi giorni, oggi compreso, aspetterei ancora due o tre giorni, diciamo dalla settimana prossima, sono due titoli che secondo me sono longabili. Longabili, perfetto. Longabili. Va bene Enrico, allora noi naturalmente continuiamo a seguire, salutiamo Enrico Jay che immagino seguirà in altrettanto modo le parole di Christine Lagarde e a presto sulle fonti tv, ti ringrazio, naturalmente vi aspetta su Scatta Quel Trend se lo volete. Grazie dell'invito, buon lavoro a te, alla redazione, un saluto agli ascoltatori, buon trading a tutti. Grazie Enrico. E allora, Matteo dice, a proposito del gas, ma il gas scende da un mese, è ovvio che gli effetti non si siano ancora visti. Si intendeva dire ovviamente che in questo momento è un po' tutto mescolato, quindi abbiamo visto in quel periodo, probabilmente anche per il bombardamento mediatico, lo diciamo, che non si parlava altro che di gas, in realtà bisogna considerare tante variabili, insomma questo era il senso, è chiaro che poi gli effetti si vedono, e questo Matteo lo confermo anch'io e hai assolutamente ragione, si vedono dopo un po' di tempo, questo è chiaro, soprattutto per tutti noi, ecco questo è il tema. Saluto Alfredo Luì Somosa, Presidente ICEI, Alfredo grazie per essere con noi, ben ritrovato. Grazie a te, grazie, saluto ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie, allora Alfredo cerchiamo anche di capire a livello più macroeconomico cosa potrebbe succedere, ovviamente siamo in attesa delle parole di Miss Lagarde, il rialzo dei tassi di 50 punti era nelle attese, tu ti aspettavi qualcosa di diverso o lo davi per scontato? Era piuttosto scontato, anzi una delle volte in cui era forse più scontato quello che sarebbe successo, tra l'altro con l'anticipo di Londra, che anche loro hanno fatto 50 punti base, gli Stati Uniti un po' più, c'è stata più una mediazione, gli Stati Uniti mi hanno dato l'idea un po' la mossa della Fed, un po' quella di tirare a galeggiare, senza far vincere ai falchi o alle colombe, poi loro comunque hanno nel 2022 avuto un'inflazione inferiore a quella dell'Eurozona e poi non sono così legati alla tematica della questione energetica, che per noi non è stata indifferente, perché dall'analisi che è stata fatta da Banca Italia sugli 11 punti di inflazione dell'anno scorso in Italia, circa 6 punti erano inflazioni di base e possiamo ancora rintracciarla, ne abbiamo già parlato altre volte, noi alcoli di bottiglia che si sono formati e che ancora non si sono sciolti dai tempi della pandemia, ancora sappiamo benissimo che noi abbiamo diversi settori produttivi che sono in affanno per mancanza, per carestie di microchip e di alcuni componenti che stanno ritardando mesi e mesi le consegne di tante cose, ma più 5 punti, 5,2 circa è legato al tema energetico, è un'inflazione quindi molto composita, abbiamo avuto l'anno scorso tra inflazione reale e inflazione indotta, per questo motivo che fa un po' ridere, stavo seguendo il comunicato della BCE, Ecco, ci ritorniamo, infatti cosa ti fa ridere? Ma fa ridere la vicenda del 2%, perché quello lì, diciamo, chi studia economia e finanza il primo anno in Bocconi li raccontano che il 2% e lo sappiamo tutti, più o meno questo, l'abbiamo imparato tutti, ma è un po' il libro dei sogni, metterlo in un comunicato in apertura in questo momento come se fosse un obiettivo raggiungibile da qualche mese. Ecco, ma guarda, io infatti indico, inizia proprio così il comunicato, e peraltro, insomma, anche la Fed ieri l'ha ripetuto più volte, ecco, ti volevo proprio, guarda, mi ero appuntata tra le varie, così, previsioni che venivano fatte, c'è anche questa, sta prendendo, te la leggo così pari pari, sta prendendo peso la posizione delle colombe, quindi all'interno della BCE, stiamo parlando di BCE, pronte a cogliere in marzo, quindi tra un mese, il mese prossimo, nelle proiezioni un rallentamento dell'inflazione in avvicinamento verso il target di medio termine al 2%, allora, addirittura c'è chi pensa che il prossimo mese potremmo arrivare al 2%, io me lo auguro, ci mancherebbe, perché questo vorrebbe dire che tutto si raffredda e che i prezzi calano e quindi le nostre tasche respirano, però, insomma, mi sembra un po' improbabile, e tu cosa ne pensi? È piuttosto improbabile, quindi è una dichiarazione di fede questa, appunto, hanno scelto tra l'altro non a caso un numero simbolico, quello da manuale, quello che nessuno può contestare e siamo d'accordo tutti su questo, però se appunto, torniamo a quello che dicevo prima, sul fatto che l'inflazione che stiamo avendo noi non è 50-50, ma 60-40, tra inflazione di base e inflazione indotta, e visto che adesso c'è un calo consistente dei prezzi della componente energetica, io sarei stato più realistico, io avrei potuto dire che un obiettivo di medio termine in questo momento sarebbe arrivare tra il 5 e il 7, che sarebbe un bel numero rispetto all'anno scorso, vuol dire che noi abbiamo eliminato quella componente che era legata alla speculazione, alla guerra, eccetera, eccetera, ma parlare del 2% in questo momento è su uno scenario di qual tipo, temporale di qual tipo, è un azzardo questo, se ti posso dire in metalinguaggio e non volersi svilacciare. Ecco, sì, sono d'accordo con te, peraltro abbiamo detto anche poco fa che le aspettative di inflazione dipendono dai 20, appunto che nemmeno la BCE può controllare, poi ovviamente il compito della Banca Centrale è quello di dare stabilità monetaria, però insomma poi il principale evento che non possiamo controllare, ossia il conflitto Russia-Ucraina, non è nelle mani della Banca Centrale Europea, no? No, assolutamente no, però c'è un dato importantissimo che è proprio arrivato in queste settimane e che ci dà l'idea, perché poi possiamo girarci quanto vogliamo, ma il tema della recessione che ha rischiato il mondo e che in parte da qualche parte la si è vista e da qualche altra parte un po' di meno, ma non si può, cioè quando un paese come la Cina cresce l'anno scorso il 3% non è recessione tecnicamente, però siamo lì, ecco quindi dicevo il dato che sta cambiando tutto è che c'è una ripresa che parte dall'Oriente come è successo in tutte le ultime crisi, perché i dati sulla crescita dei giganti orientali, ma in particolare l'India che per il secondo anno si confermerà come l'economia che crescerà di più, l'anno scorso il 6,8%, quest'anno è previsto il 6,1%, ma soprattutto la Cina che praticamente arrancava al 3%, poi sono sempre dati da verificare quelli cinesi, ma il fondo monetario sta già stimando un 5,2% e più o meno dappertutto si rispetta questo schema, è soltanto l'Eurozona che frena rispetto all'anno scorso, l'anno scorso dal 3% qualcosa in media, per quest'anno è previsto uno 0,7%, però come sappiamo la ripresa o la caduta nella crisi o l'uscita dalla crisi non è mai tutti assieme nello stesso momento, per tutta una serie di altri fattori esterni, ma se l'Oriente riparte, addirittura il Giappone, come sappiamo il Giappone ha dei tasi risicati di crescita o di decrescita, l'anno scorso l'1,4%, quest'anno viene calcolato quasi al 2%, se la macchina Oriente riparte, questo è un ottimo segnale perché vuole dire che è anche previsto, ad esempio che riescano a far fronte alla domanda che c'è in questo momento e che non riescono a coprire, la fine della politica zero Covid in Cina non è un fatto di politica interna cinese, che ovviamente lo è anche, ma è un fatto che riguarda tutti noi, quindi la ripartenza dell'Oriente già previsto dal fondo monetario, quindi non da fonti cinesi, ci preannuncia probabilmente un ritorno alla normalità, un riassorbimento di quelli che sono stati i fattori di stabilizzanti geopolitici e probabilmente il 2023 sarà l'anno in cui la Russia pagherà caro quello che ha fatto, perché chi si aspettava che le sanzioni avessero un effetto immediato si sbagliava quando il paese sanzionato campa di esportazione di idrocarburi, infatti l'anno scorso la Russia ha perso circa 3 punti di PIL, ma quest'anno col cambio della situazione internazionale, col calo dei prezzi sostanziali e col fatto che il principale cliente che siamo noi abbiamo diversificato per più del 40% il rifornimento energetico, per la Russia è previsto una perdita di quasi 10 punti di PIL, è un qualcosa che è molto difficile, la Russia dovrà reperire 100 miliardi di dollari, non si capisce bene da dove, per tappare il buco e la voragine del costo dello status, soprattutto nella situazione di guerra, quindi questo pare che stia andando in qualche modo, tutto quello che ha creato questa situazione pare che stia andando in qualche modo, si veda già l'uscita da questo e dall'altro lato le locomotive orientali stanno partendo, per questo motivo credo che sia gli Stati Uniti sia la BCE stanno a guardare e quando tu mi parli del 2% come obiettivo a due mesi, è qualcosa che nessuno ti può contestare sul numero che hai scelto, sappiamo tutti che è realistico in sostanza e non volerti sbilanciare, perché se dicessero il 4, il 5, il 6, a quel punto uno potrebbe andare a vedere effettivamente. L'obiettivo del 2% va bene a tutti. No, 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 certo, è quello stabilito, però è appunto leggere che qualcuno pensa che già il mese prossimo si potrà raggiungere. Senti, facciamo proprio un po', definisco fantapolitica se vogliamo, però in realtà è semplicemente un'interpretazione che possiamo dare a questo comunicato. Siccome subito dopo, allora inizia ovviamente parlando del ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% nel medio termine, quindi ovviamente ci dicono subito dopo che la BCE, il Consiglio Direttivo, ha deciso di innalzare di 50 punti base di interesse di riferimento, eccetera, eccetera. E poi ci dice subito quello che farà la prossima riunione, cioè anche nella prossima riunione i tassi di interesse verranno innalzati di 50 punti base. Allora, al di là di questo, siccome è già accaduto a dicembre, a dicembre Lagarde ci aveva già anticipato il rialzo di 50 punti base, è un modo, ed è qui un po' l'interpretazione che vorrei dare e che ti chiedo, è un modo per mettere calmi i mercati, perché abbiamo visto cosa è successo, i mercati hanno iniziato gennaio con ottimismo, oggi le borse europee hanno atteso la lettura del comunicato, il comunicato con ottimismo, perché? Perché non c'era incertezza, sappiamo molto bene, no? Che non vogliono respirare incertezza. Così facendo, Miss Lagarde e naturalmente il suo team cerca di calmare i mercati prima ancora di comunicare poi la scelta definitiva? Penso proprio di sì, la scelta è stata quella di dare un'immagine di solidità, perché una banca centrale che anticipa già quello che farà è piuttosto irrituale, ma dà l'idea di un team che sa cosa fa, quindi da un lato una solidità dell'istituzione e dall'altro lato è una road map per i mercati, perché se noi sappiamo già, perché ce l'hanno detto loro, che l'obiettivo è questo, in tempi così ravvicinati e nel frattempo comincia ad esempio ad allentare la mossa inflazionistica per il calo ormai imminente dei pressi energetici, cominciano ad accorciarsi i tempi delle catene produttive, quindi comincia comunque a muoversi l'economia, tu fai in tempo a tornare indietro da quello che hai pronunciato oggi davanti a un quadro positivo, molto peggio sarebbe quello di non aver detto niente o aver detto 0,25 e poi invece dover fare qualcosa di più, ha dato un tetto, ha fissato un tetto, per me è un tetto quello che è stato fissato lì, non l'hanno fatto negli Stati Uniti né ovviamente la banca centrale, la Banco of London, ha fissato un tetto, una cornice entro la quale i mercati possono sapere cosa si aspettano a condizioni invariate, ma io credo che le condizioni non saranno invariate e se varieranno sarà in meglio, non in peggio per l'economia, c'è ottimismo in questo momento in giro per il mondo, lo si vede da tanti segnali, forse il momento in cui ovviamente il conflitto ucraino è un dramma che speriamo si risolva presto, ma le conseguenze sull'economia globale del conflitto sono state in qualche modo riassorbite, quindi c'è voglia di lasciarsi dietro il combinato disposto che è significato per tutti pandemia più conflitto. Ok, Alfredo in 30 secondi prima di salutarti, ieri io ritengo che Powell si sia mostrato molto falco, seppur sicuro anche dei risultati che la Fed ha raggiunto fino a questo momento, però insomma ha ripetuto più volte che la strada è ancora lunga e che non possiamo abbassare la guardia, come ti aspetti Christine Lagarde? Credo che parlerà di meno, parlerà meno di Powell, è stato molto loquace ieri sera Sì, è stato stranamente loquace, vuol dire che c'è stato un lavoro, forse i falchi e le colombe sono andati piccioni come ha detto qualcuno sulle 24 ore, Lagarde credo che sarà un po' più abbottonata rispetto a quello che ha detto Powell, ovviamente Powell parla per un paese, Lagarde deve mediare tra l'interesse di tanti, ma la BCE sta vivendo che è un buon momento, è riuscita a rifarsi le riserve, diciamo che la situazione della BCE in questo momento è buona, quindi non credo che rischi di poterla rovinare con un'uscita non troppo felice. Hai ragione, allora attendiamo, tra poco, insomma meno di 10 minuti comincerà la conferenza stampa, grazie Alfredo Luiz Somosa, ti seguiamo su tutti i tuoi canali e a presto sulle fonti tv, ti ringrazio per l'aiuto. Grazie a voi. E allora noi andiamo in pubblicità proprio due minuti, guardate, tra poco con Jeanne Ergas, commentiamo il pre e poi Jeanne Ergas e io seguiremo con voi la conferenza stampa di Christine Lagarde, mandateci le vostre considerazioni sulla live chat di YouTube e sul nostro numero Whatsapp, tra pochissimo.